Rieccoci insieme cari telespettatori, allora quest'oggi abbiamo il piacere di mettere l'accento e focalizzare una realtà del nostro territorio regionale, in modo particolare il territorio veronese e Verona città, per quel che riguarda il mondo degli anziani, dei pensionati, per quel che riguarda le strutture che ci sono, per quel che riguarda l'attività che sta svolgendo l'FNP CISL e perché lo facciamo anche in occasione dell'elezione recentissima a segreteria, quindi ve la posso anche presentare, di Viviana Fracaroli, segretaria generale FNP Verona, 8 maggio data della sua nomina del conferimento dell'incarico. Ben arrivata, ben arrivata. Allora, innanzitutto proprio per farsi conoscere non solo ai concittadini del territorio veronese ma un po' a tutta la nostra regione, chi è la segretaria che viene da un bel passato ricco di esperienza, Fracaroli. Allora, sono del veronese, ho sempre lavorato all'interno del sindacato fino alle mie prime assunzioni, ho sempre fatto la delegata sindacale. Quando sono andata in pensione, naturalmente ho proseguito con l'iscrizione alla CISL nei pensionati e pian pianino sono entrata nel coordinamento donna nel 2018. Da lì ho fatto le mie prime esperienze a contatto della segreteria e dopo successivamente sono approdate in segreteria. Come hai detto te, prima da due o tre giorni sono segretaria generale e questa è una grandissima responsabilità. Nel senso che dovrò guidare assieme alla mia squadra Garofolo, Ugolino e Castione Tiziano e la federazione dei pensionati. Che vediamo qua il trio fotografato proprio il giorno dell'8 maggio del conferimento di incarico. Una bella sfida, perché Verona è una realtà molto particolare. Sì, è molto particolare. È una città, la seconda città come popolazione nel Veneto, con il 23% di anziani. Si estende dalla montagna, lago e pianura. Ci sono dei paesini sperduti che comunque noi siamo in grado di raggiungere con i nostri recapiti. Vediamo la slide che riguarda gli anziani per fasce d'età. Adesso chiedo alla regia che così, mentre lei parla, racconta, abbiamo la slide che ci illustra il numero di anziani. Perché esatto, ci sono anche delle realtà. Non è solo vero una città che è rilevante, ma ci sono i comuni del territorio che arrivano fino a quasi l'area dei Lessini, no? Sì, ci sono 98 comuni, credo, in tutta quanta la provincia, dall'Alta Lessinia fino al confine con Padova e Rovigo. Quindi si passa dalla montagna, la concentrazione del lago e la città appunto di Verona, altri paesi abbastanza grossi per dopo ritrovarci nelle campagne. E quindi la modalità di agire della nostra presenza varia a secondo dei territori che noi affrontiamo. Io vedo qua dai dati, che è una curiosità però, 324 centenari, 43 uomini, 281 donne. C'è un numero straordinario comunque, eh? Sì, abbiamo, ho saputo proprio ieri da una ricerca dell'Università di Verona, che c'era anche l'assessore Ceni del Comune di Verona, che quest'anno però a Verona e città non si festeggia nessun centenario maschio. Sono tutte donne. Quindi anche la sua, siccome sono tantissime anche le donne anziane, tra l'altro. C'è un bel numero rilevante. La sua esperienza anche nel coordinamento donne l'aiuta per capire certe dinamiche, perché poi alla fine anche le persone anziane vivono dinamiche un po'... Un po' diverse, sì. Un po' diverse, infatti. Quello che ho potuto vedere io e che ho toccato veramente con mano è che le donne hanno, la stragrande maggioranza, pensioni bassissime. Ah, infatti volevo arrivare a questo, infatti questo è il problema. Questo perché la loro vita lavorativa viene interrotta nel momento in cui fanno dei figli e dopo magari riprendono a lavorare, ma fanno fatica comunque a seguire i figli perché non ci sono centri come asilo nido, come il doposcuola. Sono poche le scuole che fanno il tempo prolungato e comunque dopo quando riescono a fare il tempo pieno, lo fanno per pochissimi anni perché solitamente hanno qualche genitore anziano che ha bisogno di assistenza. Quindi la loro vita contributiva è molto più bassa rispetto a quella dei maschi. Ecco, per capire di che numero stiamo parlando vedo chiudere alla regia un'altra slide perché allora pensionati 236.385, 49% sono uomini, 51% donne e quindi sono anche tante, ma come vediamo in questi livelli di reddito, di redditualità, insomma la fascia 500-750 euro ai noi è la più alta, come si fa a vivere con questi importi? Difatti non ce la fanno, le persone che frequentano i nostri recapiti fanno un sacco di richiesti di ISE per avere contributi perché la maggioranza sono persone a basso reddito. Si figuri lei quando devono andare in casa di riposo con le reti altissime che ci sono, cioè veramente non ce la fanno ed è per questo che le donne solitamente interrompono il lavoro per accudire i loro familiari, che sarebbe anche una bella cosa se però il lavoro di cura fosse riconosciuto anche a livelli di contributi un domani quando andranno in pensione. E questo si riallaccia tra l'altro al tema che non vi riguarda però vi riguarda di trasverso della bassa natalità, se ne parla proprio in questi giorni, bassissimi livelli proprio perché ormai è l'onda lunga di annate dietro in cui era difficilissimo poter avere figli pensionati, voi magari ne avete avuti anche tanti, però se fosse i tempi attuali con il costo della vita sarebbe grandemente difficile. In questo momento siamo a un figlio, cioè un 1,4 figlio per donna, nel 2030 scendiamo già a 1,3 e quindi diventerà insostenibile avere nuove occupazioni. Anche il sistema pensionistico? Il sistema pensionistico avrà qualche bello scossone ed è per questo che noi dobbiamo metterci in testa di cambiare non adesso ma cambiare ieri, nel senso che dobbiamo mettere in atto quelle misure che servono a tutelare i futuri anziani, quelle che abbiamo già adesso e soprattutto i giovani, come facciamo noi chiedere ai giovani di fare figli se dopo non hanno una casa, non hanno un lavoro precario che adesso si è allungato di un altro anno e non hanno paghe sufficienti o lavori degni di essere chiamati con questo nome. Quindi noi pensiamo sì a noi anziani ma con occhio di riguardo ai giovani perché sono i nostri figli, sono i nostri ripoti ed è giusto tutelarli, è giusto lasciarli una società, un qualcosa di fatto, sarebbe giusto lasciarlo migliore di quello che noi abbiamo trovato, però con queste condizioni economiche proprio non si può fare niente. Anche perché ricollegandosi al discorso che le diceva ci sono tantissime persone anziane, molte sono anche donne, non vivono in situazioni tutte sostenibili e sono anche molte sole tra l'altro, quindi l'appoggio molte volte è proprio sui figli, quindi un figlio che ha la famiglia magari anche dei bambini piccoli a un certo punto si trova ad essere anche tra virgolette genitore, però nell'ambito medico lo definiscono proprio così, del proprio genitore che è diventato anziano e magari ha delle forme anche di demenza perché questa è un'altra patologia estremamente diffusa. E soprattutto un figlio solo non ce la fa a sostenere la retta del genitore qualora dovessero, che sempre meno riescono a metterli in casa di riposo o li mettono proprio quando non c'è più niente da fare, perché loro non ce la fanno con il loro reddito a integrare la casa di riposo e oltretutto nonostante questo mancano circa 3.000 impegnative per andare in casa di riposo. Vediamo infatti la situazione dell'RSA nella regione Veneto per vedere anche il focus in in modo particolare nell'USL di competenza di Verona che è l'USL 9, eccola qua, infatti quella è il primo posto in alto, vediamo 71 strutture, quindi avete il numero in assoluto più alto di strutture e nonostante questo però mancano le possibilità di accedervi, no? Sì, oltretutto sta mancando anche personale, mancano medici, mancano infermieri, mancano operatori sociosanitari che sono la parte vitale per tenere aperte le case di riposo, perché la persona ha bisogno di essere accudita e quindi se mancano tutti questi elementi qua non si può fare niente, non si va da nessuna parte e quindi la mancata programmazione o non so la cecità che ha avuto la regione in questo momento qua di non saper programmare per esempio il ricambio dei medici di base, abbiamo zone totalmente scoperte da medici di base, zone che non hanno il pronto soccorso adeguato, zone a cui manca la guardia medica e quindi per un anziano muoversi, ma a parte l'anziano, anche per una famiglia muoversi a fare, che ne so, 50 km per trovare un pronto soccorso aperto non è avere una sanità d'eccellenza. Per completare un po' il discorso delle strutture case di riposo, ci sono quelle pubbliche poi ci sono quelle private, poi ci sono delle strutture anche per persone non autosufficienti, dedicate e per patologie di decadimento cognitivo fino ad arrivare alla patologia dell'Alzheimer, quindi ci sono diverse strutture. Come funziona il sistema case di riposo dopo il periodo difficilissimo dopo il post-Covid? Posso solo dire che nel 2018-19 la media, ma parlo solo dei nostri iscritti CISL, che noi abbiamo 32.500, più di 32.500 iscritti, la media di mortalità che noi abbiamo registrato solo, ripeto, fra i nostri iscritti, 2018-2019 erano 1.425, per passare nel 2020 1.765, vale a dire che sono morti il 20% in più di anziani, il 21% e l'11% in più nel 2021 e siamo tornati al 17% in più nel 2022. Questo vuol dire che le persone, comunque, cioè causa pandemia, causa gli strascici che hanno lasciato la pandemia, continuano a morire. E noi, allora, nel 2020 abbiamo chiesto con tanta forza al prefetto di Verona di fare un osservatorio permanente sulle case di riposo e ci siamo riusciti. Quindi, a livello regionale, cos'è l'osservatorio sulle case di riposo? Non ce ne sono tantissime? A Verona c'è, credo ci sia anche a Treviso, ma non sono... sì, c'è anche a Treviso. Non ce ne sono pochissime in realtà, non è che ce ne sono tantissime, però servono. Questo ci è servito molto per darci l'indicazione di cosa ha fatto la pandemia, di dove si è sviluppata, di come fare per contenerla e soprattutto monitorare la qualità di vita degli anziani in questo momento, cioè in quel momento dove erano relegati in stanza, che non vedevano nessuno. Quindi lei si figura, un anziano abituato a avere la visita dei parenti, anche se con l'Alzheimer molti riconoscono lo stesso i loro cari, non vederli più per mesi e mesi. Quelli che erano fortunati li vedevano in videochiamate, ma non tutti, e non tutte le strutture hanno applicato questo metodo qua. E non tutti capivano quello che vedevano. Lei provi a lasciare in letto una persona per un mese, questa persona non si alza più dopo. No, assolutamente. Toccato con mano purtroppo. Allora, osservazione sull'RSA che funziona ancora oppure no? Allora, l'osservatorio dovrebbe funzionare ancora, però di fatto l'Ulsa non ci convoca più. Adesso ci stiamo organizzando per ricorrere di nuovo al prefetto, perché noi al di là della pandemia, del momento di urgenza che adesso è superato, riteniamo opportuno esserci ancora dentro alle case di riposo, di vedere, di monitorare la vita dei nostri anziani, come si svolge all'interno della casa di riposo. Perché anche servire un pasto su una certa maniera, con un po' di compagnia, con un po' di vivacità, questo serve anche per allungare la vita delle persone. E noi vogliamo che i nostri anziani stiano bene, non è solo una questione di soldi, ma proprio una questione di civiltà. Farli vivere bene, sono nel momento delicato della loro ultima esperienza di vita, perlomeno che vivono bene. Qualità di vita, questo è importantissimo. A proposito di rapporto con istituzioni o similari, la contrattazione sociale che è importantissima, perché la svolge sia il sindacato, come sindacato CIS, ma anche sindacato pensionati, nell'ambito dei comuni e ha a che fare anche con le rette delle case di riposo. Come va lì da quel punto di vista? Sì, ecco, noi eravamo partiti bene nel 2018-19-20, dopo il Covid naturalmente ha fermato tutto, avevamo instaurato in tanti comuni la contrattazione comunale, che voleva dire fare la conta di quanti anziani ci sono, l'analisi dei bisogni che ci sono nelle varie zone, perché una persona che vive in montagna non ha gli stessi bisogni di uno che vive al lago, per esempio, o che vive in centro città. Vedere l'aiuto che il comune era in grado di darlo, magari suggerire o lavorare insieme, per far sì che le persone venissero monitorate, curate, seguite, e capire di cosa avevano bisogno. Questo qua si è fermato. Adesso abbiamo ricominciato ancora, abbiamo portato a casa assieme al comune di Verona, una piccola soddisfazione che però coinvolge tante persone, nel senso che siamo riusciti a abbassare l'impunibile IRPEF da 15.000 euro a 12.500. E quindi la soglia di esenzione è stata alzata in pratica. Sì, esatto. E questo insomma facilita, facilita, per quel che può facilitare molte persone. Noi, d'altra parte, come sindacato, ai nostri iscritti pensionati, con reddito inferiore a 12.500 euro, pratichiamo uno sconto anche sulla compilazione del 730. quindi noi ci mettiamo anche a disposizione di tutti. Anche questo è molto molto importante. L'altra cosa su cui sempre, a livello regionale, comunque ed ancor più anche a livello territoriale, perché poi voi rappresentate 98 comuni del territorio, quindi non poca cosa, sono le politiche sull'invecchiamento attivo. Perché più l'anziano arriva ai famosi 100 anni e passa in modo attivo, autosufficiente in qualche modo, più naturalmente la qualità di vita aumenta e c'è meno bisogno di far ricorso alla sanità, poi prenderemo un cenno anche alla sanità, al sistema socioassistenziale e medico, ma anche alle strutture, le case di riposo, strutture protette. Invecchiamento attivo, c'è una collaborazione in modo particolare anche con l'università se non erro? Sì, allora partiamo dal concetto che se una persona invecchia e invecchia in buona salute, prima sta bene la persona, secondo costa meno la società. Quindi è tutto nel nostro interesse far star bene nella persona per motivi suoi personali, perché riesce a muoversi, riesce a vivere, riesce a avere ancora dei contatti e anche a livello sanitario costa, come dicevo, prima meno. Con l'Università di Verona abbiamo fatto, cioè ci hanno coinvolto in una ricerca, praticamente noi abbiamo fornito 100 persone over 65 da monitorare per sei mesi attraverso uno smartwatch. Questo qua, dopo il primario del progetto, ci dà dei consigli, naturalmente a livello, adesso non so come, cioè 50 sì, 50 no, proprio come viene strutturata una ricerca. Certo. Per vedere, perché loro dicono e sostengono che l'hanno già fatto in collaborazione con l'Università di Sydney, che se una persona alla nostra età riesce a cambiare anche minimamente lo stile di vita, ha buonissime probabilità di arrivare al grande vecchio over 80 in buona salute. e questo vuol dire a 60 anni, 65, avere ancora 15, 20 anni da vivere bene e non è poco. Assolutamente. Di questo abbiamo parlato proprio in collaborazione con FNP ancora tempo, un anno fa praticamente. Sì, con il professore Di Vincenzo. Con il professore Di Vincenzo. Che è quello che ci segue. Allora, che raccontava chi sono gli anziani, quindi che la sticella si è alzata sempre di più, perché ormai 65 anni non sono neanche considerati tra poco nella categoria degli anziani, ma si è alzata moltissimo, che però ci sono tante strategie che dovrebbero essere apprese e soprattutto attuate per poter avere una vita il più possibile attiva, dinamica e salubra, quindi dall'alimentazione al movimento, al partecipare, al curarsi, al curarsi, al far prevenzione. Questo è un altro elemento. Cose banali da fare, che però messe insieme ti permettono di allungare la vita e soprattutto di allungarla in buona salute. Salute, prevenzione, eccetera, sistema sanitario. Come va? Sistema sanitario, come dicevo prima, Verona, come liste d'attesa, un po' la maglia nera. Sia come liste d'attesa, come programmazione di interventi. So di persone che magari hanno bisogno di farsi la cataratta e tempo di attesa si aggira sui due anni. Però l'assurdo è che se tu hai soldi e te li paghi nello stesso ospedale, nel giro di un mese riesci a fartela. E questo per un sistema sanitario universalistico, come si dice, come noi abbiamo diritto alla salute, come l'articolo 32 della Costituzione ce lo garantisce, questo qua però non avviene. Quindi adesso è ora di riprenderci in mano la sanità e di vedere bene che cosa succede. Perché non è possibile che per una mancata programmazione ci siano liste d'attesa infinite e che le persone rinuncino a curarsi. Oppure quelle che possono vanno al privato, però sottraendo soldi al bilancio familiare che di questi chiari di luna proprio... Anche perché in questo periodo aumenta tutto. Infatti il costo della vita, tra l'altro, sempre anche della CIS, c'è una associazione di consumatori che segue a di consum, molto attiva, molto preparati, che hanno fatto diversi studi a riguardo anche a tutela degli anziani, sia per tutelarli dalle truffe, dai raggiri frequentissimi, ma poi anche dall'attenzione al costo della vita. Perché per un pensionato, lei stessa diceva, abbiamo dei pensionati che veramente, pensionate che vivono con cifre bassissime, adesso l'inflazione è galoppante e che non ci sono adeguamenti che sono stati ritenuti soddisfacenti, neanche in prospettiva, rendono tutto molto più difficile. Ed è per questo che noi assieme con la di consum abbiamo già fatto l'anno scorso, ma quest'anno abbiamo intenzione di ripeterlo, andiamo in tantissime zone dove noi siamo presenti a fare delle assemblee nei vari posti che ci concedono di farle, appunto per parlare di truffe, del caro vita, del risparmio bolletta, come fare per risparmiare qualcosa e siamo molto affiattati e vediamo che il riscontro è grande. Perché anche, non so, anche per esempio le truffe telefoniche, quindi la di consum Tutti i sistemi per portare via i soldi agli anziani che magari in buona fede hanno un atteggiamento propositivo, vogliono accogliere, dare una mano, eccetera, poi invece purtroppo ci rimettono. Cosa che l'ha colpita in questo breve periodo comunque in cui è entrata a capofitto nella situazione pensionati e che subito si era preso molto a cuore? Perché poi anche lei insomma ha avuto a che fare con persone anziane in famiglia, insomma come tutti. Le persone, le persone di una certa età, allora si credono, cioè normalmente quando ero giovane dicevo Madonna 60 anni è vecchio, cosa vuoi che faccia? Invece hanno una vitalità incredibile, sono propositivi, sono solidali, sono persone che veramente ti accolgono con il cuore. Pensi che noi abbiamo 300 ore di recapito settimanali in tutta la provincia di Verona e provincia e abbiamo delle nostre agenti sociali che ci stanno dentro, che operano, che accolgono le persone, che fanno un milione di cose e sono magnifici perché questi qua hanno l'empatia quando arrivano le persone, cioè li sanno accogliere, li sanno indirezzare nelle persone giuste, dalle persone giuste, dai posti giusti. L'anno scorso abbiamo formato una quarantina di agenti sociali cosiddetti nuovi, persone che sono andate in pensione, però li abbiamo affiancati agli anziani, nel senso che devono prendere tutto quello che l'anziano gli dice, cioè vedere come fa, come muoversi e abbiamo fatto centro perché non abbiamo mai chiuso neanche durante il Covid ma abbiamo sempre aperto nuovi recapiti e nonostante tutti i morti che ci sono stati stiamo, anzi abbiamo già raggiunto i pensionati, il numero di pensionati che avevamo nel 2019. Quindi è frutto della buona volontà, dell'empatia, della capacità che hanno i nostri agenti sociali che sono la nostra faccia, della faccia della CISL in giro nel territorio. Ma anche il riconoscimento perché a un certo punto una per un pensionato si scrive con vanto poter dire che nonostante tutti questi morti che ci sono stati abbiamo saputo recuperare. Infatti no, perché poi tra l'altro il fatto che ci siano i recapiti vuol dire, quindi lo spieghiamo anche i nostri telespettatori, che ci sono degli sportelli, degli uffici dove possibilmente telefonando prima e prenotando dell'FNP CISL dove la persona viene accolta e presentando le problematiche che tante volte ci scrivono, ci telefonano, ci chiedono dei problemi particolari, chiamate gli uffici, andate, ce ne sono tantissimi e possono essere risolte queste problematiche, trovare possibilmente uno sistema di soluzione. alla domanda banale di pensione, alla domanda del bonus, al certificato ISE al 730, noi siamo disponibili per tutti, ma anche solo semplicemente per l'ascolto delle persone e dopo quello che possiamo fare o dove possiamo indirizzarlo senz'altro lo facciamo. Assolutamente, questo è importantissimo. E questo crea comunità, crea vicinanza ed è così che si deve fare. È più problematica la gestione, la situazione dei pensionati nella città di Verona, città immediata provincia oppure fuori nei tanti comuni del territorio. Questo per raccontarlo a chi non è di Verona, che magari Verona viene sempre vista come una città molto attiva, ricca, propositiva, dinamica, anche perché magari confini con la Lombardia, perché c'è tanto turismo, insomma ci sono, invece a volte bisogna guardare un po' meglio con la lente di ingrandimento. Sì, posso dire che Verona è divisa in tante zone, no? In certe zone sono ben, cioè, siamo ben radicati e ci sono persone disposte ad uscire, a venire nei nostri uffici. In altre zone invece sono molto più riservati, come per esempio nell'Alessinia, dove se tu non vai a casa, ma anche solo nel bar, dove dici guarda, io ci sono qua nel bar ogni lunedì dalle due alle tre e subito ti guardano un po' così, ma poi capiscono che cosa facciamo, vengono e non ci sono più problemi. L'importante è esserci nel territorio, non c'è molta diversità, perché i bisogni alla fine sono sempre quelli. Magari il pensionato che vive su un paese sperduto o che vive isolato, ce ne sono tanti che vivono da soli, hanno il figlio che va una volta alla settimana e hanno bisogno di fare la spesa. Noi abbiamo anche l'associazione da metterli in contatto per andare a fare la spesa, che sembra una banalità però muoversi, magari non guidano più la macchina e non sono neanche capaci di farle. Noi facciamo anche questo, cioè li mettiamo in contatto, raccogliamo i loro bisogni e cerchiamo di aiutarli. Dopo ci sono persone che sono piene di vitalità, che si offrono anche loro stessi per assistere, per fare compagnia, per trovarsi e perché la nostra sedia non è solo un posto dove si fanno solo pratiche, ma è anche un posto di incontro. Questo è molto importante. Un'ultima cosa, ne parlavamo prima fuori onda, tecnicamente vengono definiti car giver, che sono gli assistenti familiari, familiari assistenti in famiglia e non, sono soprattutto donne, questo gli ho chiesto appunto a lei come con il passato di coordinamento donne, in molte case sono anche persone anziane, sono signore anziane, che hanno raggiunto anche i 70 anni, che fanno questa attività di assistenza ai propri genitori, c'è un supporto perché hanno tantissime problematiche? Sì, normalmente dovrebbe essere che il comune, l'assistenza sociale del comune, se ne fa carico e offre dei servizi domiciliari come il bagno, i pasti e quant'altro serva loro, però hanno anche bisogno magari di trasporto sanitario, devono andare a fare una visita, magari la figlia da 70 anni non ce la fa a portare il genitore da 90 a fare la visita all'ospedale e loro per questo dicevo prima che basta una telefonata e li mettiamo in contatto con chi può fare questa cosa qua. quello che lei sta raccontando perché effettivamente tante persone non sono a conoscenza poi appunto avendo anche una certa età non hanno quella dimestichezza di cercare, frugare anche nell'ambito del web e poi trovare chi può veramente occuparsi senza chiedere troppi soldi perché poi il problema è sempre quello anche di carattere economico. E' sempre il problema economico il primo. Il problema economico è diverso. Perché se uno ha i soldi si chiama il taxi e va. Esatto e va. O si chiama la mulanza ma chiamarsi la mulanza vuol dire 100 euro. quindi 100 euro con una persona da 500 credo proprio che sia impossibile farla. Assolutamente. Il suo proposito è la prossima cosa che vorrebbe fare e realizzare con i suoi colleghi. Allora è una cosa e lo faremo e lo stiamo già facendo essere molto più presenti in tutte le zone aprire cioè prolungare il tempo di apertura dei nostri recapiti ascoltare cosa vogliono la gente fare le trattative comunali dare un supporto alle donne alla violenza domestica che c'è diffusa anche contro le anziane e anche contro le anziane nelle case di riposo perché per esempio può sembrare stupido ma lasciare a letto una persona perché non hai personale per alzarla questa è una violenza fargli il bagno come vuoi tu e non come vuole lei perché il personale non è che sia tutto cattivo per carità a parte il fatto di Treviso le persone che conosco io sono persone di cuore e che sono qualificate a fare questo lavoro però hanno il tempo contato per alzare le persone per imboccarli per metterli a letto sono poche con tanti anziani sì appunto sono pochissime con tanti anziani perché manca personale quasi dappertutto quindi mettere a letto una persona alle 6 di sera e alzarla alle 10 della mattina per me questo è il segno di violenza non si può tanto più che l'anziano si sveglia 3000 volte durante la notte e c'è solo una persona in turno per reparto di 100 persone mi sembra un po' cioè mi sembra sono convinta non mi sembra che non vada bene cioè le persone devono essere assistite ricordo che in questo in questo frangente qua che la riforma delle IPAP che non è mai stata fatta in Veneto contiene anche il minimo standard per cui una struttura può tenere aperto adesso si figuri che il minimo standard è due persone due persone e mezzo per un operatore ferie o non ferie deve essere quella cosa lì però una persona che si arrangia da sola ha un bisogno una che non può muoversi che è alettata non può andare da sola ci vogliono due operatori quindi ripeto lasciarli a letto non farli fare nessun tipo di movimento dalle 6 di sera alle 9 10 della mattina cioè farli fare la cena a letto magari oppure la cena dopo subito a letto e alla mattina colazione a letto e dopo la alzi credo proprio che non sia non sia il meglio per una persona per quello dicevo che se ci fosse un aiuto più presente a casa magari le persone stanno meglio costano meno però bisogna aiutare anche l'assistente che li aiuta il figlio che li aiuta o la figlia perché questi non possono permettersi di perdere anni di lavoro per dopo non avere riconosciuto neanche il minimo della loro pensione infatti allora ci sono tante quindi dinamiche che intervengono tante sono comune tante realtà del territorio veneto altre sono più spinte più peculiari al vostro territorio noi vi facciamo intanto un in bocca al lupo per questo mandato per questo incarico e anche per affrontare al meglio le problematiche ma anche le soddisfazioni che senza dubbio verranno e vengono perché come ha detto lei il fatto che ci siano comunque iscritti pari tanti tanti quanti prima del covid vuol dire che è un riconoscimento che viene fatto una forma di ringraziamento questo dà senza dubbio soddisfazione buon lavoro ci rivedremo perché così teniamo aggiornati anche i nostri telespettatori dell'area del veronese e non solo su quel che capita negli ambiti territoriali della nostra regione fatti specie di quest'oggi Verone provincia auguri ancora grazie a Viviana Fraccaroli segretaria generale FNP di Verona e ai suoi due colleghi che sono entrati appunto nella dirigenza diciamo così regionale grazie provinciale però a livello generale grazie ancora cari telespettatori naturalmente io vi lascio vi ricordo che la puntata è possibile rivederlo naturalmente sul nostro sito internet ma anche sul sito dell'FNP CISL del Veneto grazie